Il primo banco di prova per l'area vasta, come ha sottolineato l'assessore Gianacone. Sì, sicuramente, è un banco di prova importante perché mettere assieme 33 comuni non è facile, non è scontato. Invece siamo riusciti ad avere un ottimo risultato. Abbiamo presentato stamattina il progetto, è un progetto ambizioso, molto impegnativo, che potrebbe segnare veramente una svolta su quello che è il discorso di una messa a rete nel settore turistico. Quindi mettere assieme quelli che sono i beni culturali con l'itinerario legato all'enogastronomia e alle eccellenze del territorio è, secondo me, una cosa di grande importanza, vista in un'ottica di rete. Finalmente si ragiona in termini di rete e quindi fare massa critica rispetto a un'opportunità di sviluppo turistico che deve essere lanciata sul territorio nazionale. Montevergine è al centro di questo progetto. Esattamente, Montevergine sarà il centro di questo progetto. Montevergine è stato riconosciuto da tutti i sindaci come uno degli attrattori più importanti. A valle però di Montevergine chiaramente abbiamo un territorio da valorizzare con delle risorse molto importanti, sia dal punto di vista paesaggistico ambientale sia dal punto di vista dei beni culturali, cosa che questo progetto auspica di fare. In futuro una sorta di sinergia con la Rocchetta Sant'Antonio, in che modo? Questo è un altro tema molto importante secondo noi, perché alcuni comuni sono attraversati dall'itinerario dell'Avellino Rocchetta Sant'Antonio e in un'ottica di prospettiva e rilancio del turismo sicuramente l'Avellino Rocchetta potrebbe diventare un elemento strutturale che addirittura ci potrebbe andare a ricollegare con quelli che sono gli altri progetti di aria bassa che si stanno sviluppando sul territorio. Quindi l'Avellino Rocchetta potrebbe essere veramente una grande opportunità. Noi con questo bando andiamo proprio in questa direzione, auspichiamo quanto prima di avere anche un incontro col Presidente Luigi Cantamessa che abbiamo invitato e penso che nel mese di settembre ci vedremo per essere subito operativi. Stasera c'è un Consiglio comunale molto importante, ci potrebbe essere la svolta anche per il Sindaco Foti, l'area bassa comunque andrà avanti anche se arrivasse uno commissario e come? Ma questo non lo so dire sinceramente, aspettiamo stasera e poi vediamo. Certo sarebbe veramente un peccato dopo questi primi risultati veramente incoraggianti che la cosa potesse avere qualche battuta di arresto.